Sono Filippo Berto, sono il titolare di Berto, sono qui alla BIT, la Borsa Immobiliare del Ticino, una manifestazione che ospita aziende che si occupano di edilizia, di casa, di progettazione. Ci siamo anche noi per la prima volta e siamo qui per affiancare tutti i nostri clienti che abbiamo servito in questi anni nel Ticino e in tutta la Svizzera perché stiamo in qualche in modo cominciando a seguire i nostri clienti in un modo diverso, avvicinandoci a loro perché a breve apriremo uno spazio dedicato all'Aberto direttamente qui in Ticino. Grazie per la visione!